Martedì 7 febbraio, questo è liscio e macchiato, buongiorno Fabrizio Sirica da Palazzo delle Orsoline. Buongiorno Andrea, buongiorno Marco e a chi ci ascolta, sì effettivamente poche ore dopo la fine della notturna siamo ancora qua, come cantava Chi Vasco. Sacco a pelo? Come? Hai portato il sacco a pelo? Eh no, fortunatamente vivo abbastanza vicino, quindi è un po' meno dispendioso che per altri colleghi, ieri ho pensato arriveranno a casa a mezzanotte, alle 8 ripartono, ecco, poco rispettoso della legge sul lavoro ma non siamo dipendenti sallati, quindi. Perché non sono bastati due giorni di dibattito dalla una a sera per approvare il preventivo del cantone, questa mattina alle 9 tra pochissimo si ricomincia e appunto i giornali aprono proprio sul preventivo i quotidiani ticinevisi, i conti restano in sospeso ma il deficit sprofonda, titola il Corriere del Ticino, mentre la regione il prelievo non c'è, il carovita nemmeno. Riassumo brevemente cosa è successo ieri, è stato stralciato nella marea di emendamenti il taglio, il contributo di solidarietà del 2% previsto sui salari dei dipendenti dello Stato. Questo ha portato a un ulteriore aggravio del deficit previsto a preventivo, ma poi c'era un altro emendamento molto così che ha rischiato di passare, che era quello sul carovita, presentato proprio da Fabrizio, dai Verdi davanti e dal centro, se non mi sbaglio, e questo emendamento invece non è passato per un soffio, anche perché sono stati ogitati molti spauracchi in quanto anche il Presidente della Gestione ha detto se passa anche questo emendamento sforiamo il tetto per il freno al disavanzo e quindi entriamo in violazione della Costituzione, a quel punto il PLR ha detto noi se succede questo non lo votiamo più, grande bagarre, alla fine appunto l'emendamento non è passato, la maggioranza ha retto per un filo e quindi subito a Fabrizio un commento. Ma il commento è questo, vorrei raccontare anche un attimino il dietro le quinte di quei momenti abbastanza concitati. a determinato punto con la stensione strategica dell'Udc, perché Udc ha deciso che su 77 emendamenti si sarebbe astenuta su tutto, questo con loro, mia interpretazione, mi permetto di fare un'interpretazione con l'obiettivo di fare che cosa? Di peggiorare le finanze del cantone, dal nostro punto di vista non è così problematico, dopo ci arrivo, da loro sì, in modo tale da poter accusare ulteriormente i partiti, comunque sia che gli va riconosciuto al centro, a Lega e Liberali, di aver preso la responsabilità. Ecco, questo giochetto politico ha anche puntato il dito di Gnasca, ma questa è un'altra storia. Comunque con la stensione dell'Udc si aprivano dei scenari interessanti sul rincaro, tant'è che a un determinato punto abbiamo fatto i calcoli, siamo riusciti in una riunione straordinaria, in una sospensione della seduta, a mettere insieme Verdi Liberali, MPS, Verdi, Avanti, PC, IPS, tutto in larghissimo fronte, il risultato cosa dava? Dava 26 deputati sicuramente favorevoli alla nostra proposta, 26 deputati sicuramente contrari a questa proposta che erano PLR e Lega Compatti, e a quel momento era decisivo il voto del centro. Il centro ha veramente fatto il centro politico, poteva decidere da che parte stare, e uno si dice, ma quando Isabella, il loro deputato, quando il loro sindacato di riferimento, l'OCST, di cui il vicepresidente Giorgio Foglio è un esponente importante, beh ti dici, dopo una piazza di questo tipo, voluta anche dall'OCST, ti dici, beh, caspita, possiamo portarla a casa. Ecco, invece lì qualcosa è andato storto, il centro ha deciso di stare con i dipendenti pubblici solo per un piccolo, importante, ma piccolo segnale, quello del 2%, mentre il rincaro che pesa su tutta la vita di un dipendente è stato accettato proprio con il voto di maggioranza del gruppo del centro, e i risultati sono disastrosi per i dipendenti, perché, faccio un esempio concreto, il 2% per un docente di 28 anni delle scuole medie superiori, del liceo, facciamo questo esempio, pesa sul suo salario circa un 500 franchi, che sarebbe stato una tantum, quindi molto bene dire, no, non dobbiamo, in maniera anche che nel privato sarebbe del tutto illegale, togliere un salario che era stato prima firmato e contrattualizzato, ok, valore 500 franchi. Il non riconoscimento del caro vita, nella prima proposta ho fatto io dell'1,46, per quella persona sono 67.000 franchi, perché su tutta la carriera si porta dietro questa decisione presa dalla maggioranza del centro, da Lega e da Liberali. Ecco, quindi 500 contro 67.000, e con la proposta invece di compromesso, la proposta di compromesso era fare quello che ha fatto la Confederazione, e quindi fare quello che il cantone che ha fatto di meno in tutta la Svizzera ha fatto, cioè svitto mi pare, 1% più 400 natanto. Ecco, fare questo avrebbe considerato circa 40.000 franchi di soldi che sarebbero andati a quel dipendente, e nemmeno su questo compromesso, quando la mia collega Laura Rigetti in Parlamento ha detto rendetevi conto dell'importanza del tema, quando addirittura Matteo Pronzini ritira la sua proposta perché dice c'è bisogno di questo rincaro per 10.000 e passa famiglie, quando addirittura Matteo Pronzini fa questo, fa capire con una battuta l'importanza del momento che abbiamo trovato tutti insieme a una quadra, e invece il centro ha deciso di fare il centro-destra. Quindi vi ha tradito il centro? Ma non noi, ha tradito migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori, e dopo veramente io trovo estremamente ipocrita voler uscire con questa bandierina del 2% di contributo e solidarietà, come una grande vittoria, ieri la regione online titolava la vittoria del centro, ma che vittoria del centro? Ma questo qua è la vittoria, sì, il premio dell'ipocrisia, scusate, ma un contributo di 500 franchi paragonato a uno che può pesare 40.000 franchi nella carriera di una persona. Ecco, queste sono le proporzioni, questo è il danno, e io di fronte a questo non posso che sostenere con ancora più vigore i dipendenti pubblici a fare uno sciopero, che sia uno sciopero che faccia capire alla popolazione l'importanza del loro lavoro. Un lavoro svilito, umiliato, in tantissime dichiarazioni con questo voto, che va fatto capire quanto invece è importante. Brevemente Fabrizio che dobbiamo correre, ma tu pensi che il resto, chi lavora nel privato lo capirebbe oggi come oggi uno sciopero dei dipendenti pubblici? Ma io spero che chi lavora nel privato ritenga che di fronte a un paventato, taglio del salario, di fronte a una non sostituzione dei partenti, quindi molte più persone che dovranno fare del lavoro in più sulle loro spalle per la stessa paga, anzi una paga che darà minore potere d'acquisto dell'anno prima. Dopo che per 20 anni sono stati comunque presi di mira con tutta una serie di misure, io penso che un lavoratore del privato dovrebbe sostenere con solidarietà queste persone, queste persone che fanno un lavoro comunque importante perché il lavoratore del privato manda i figli ad una scuola e c'è un docente o una docente che fa un lavoro importante, se ha un problema lui stesso e sua figlia va dall'SPS, va dall'SMP, dai servizi psicosociali che gli danno una mano, se ha un problema che qualcuno gli ruba la bicicletta chiama la polizia, ed è un lavoro importantissimo, sono persone che peraltro i più hanno anche studiato e quindi i salari che hanno non sono per nulla fuori di testa ma sono legittime, anche se qualcuno oggi sta addirittura andando nel privato dal pubblico perché ottiene situazioni migliori, quindi guarda, io francamente penso che bisogna smetterla con questa competizione col privato che è una competizione al ribasso perché i dipendenti pubblici non sono per nulla privilegiati, l'unico privilegio è quello di non poter essere licenziati all'oggi o al domani, questa è una condizione che in un paese civile hanno pure i lavoratori del privato, solo in Svizzera abbiamo un diritto del lavoro che ti consente senza grandi argomentazioni di lasciare a casa una persona, quindi il problema è nel privato, non è nel pubblico e il lavoratore del privato se non vuole vedere peggiorate le sue condizioni ha bisogno che il pubblico abbia sia punto di riferimento, sia fare o non venga peggiorato, se no è una caduta verso il basso per tutti. Dobbiamo correre, il preventivo dovrebbe essere approvato comunque questa mattina Marco Daniel Ritzer sulla regione torna ancora sui conti contro una narrazione più che alta. Sì, in estrema sintesi Ritzer dice che corrisponde questo deficit delle finanze cantonali previsto che dovrebbe uscire questa mattina dall'approvazione del preventivo a poco più dello 0,4% del prodotto interno lordo ticinese, il debito pubblico del cantone non rappresenta neanche il 10% del PIL e ora di smetterla, scrive di raccontare frottoli, Ticino non è una città in fiamme, basta con la politica della contabilità e basta, altre castronerie, lo Stato non è paragonabile a un buono o cattivo padre di famiglia perché tassa e spende, lo Stato non è neanche un'azienda, il preventivo 2024 è l'espressione, questo preventivo, di una classe politica o buona parte di essa carente di spessore e lungimiranza. Brevissimo Fabrizio su questo, un commentino. Non posso che essere assolutamente d'accordo su tutta la linea, l'aspetto forse più importante da sottolineare è che non siamo in una situazione catastrofica e anzi, pure se ieri avessimo votato il rincaro, beh c'è ancora un'entrata che è lì in sospeso e dobbiamo ancora vedere se scatta fino a disavanzo o no, ed è la votazione di giugno per cui abbiamo preso già più di 10.400 firme rallentando le ultime due settimane perché stanno arrivando da sole e che io penso noi possiamo vincere perché in un momento che si grida oddio se non facciamo niente, ci schiantiamo al suolo nella metafora di Janella riportata anche da Ritzer, moriamo, ebbè non è proprio così perché possiamo chiedere ai ricchi e ai super ricchi di non pagare meno tasse, di dare un piccolo contributo di solidarietà, mettiamolo così. Ok, andiamo avanti, parliamo una breve, una notizia sul salario minimo, in un bilancio del 2023 soltanto il 3,9% delle aziende controllate ha sgarrato, poco più di 170 sono i datori di lavoro per cui è stata riscontrata un'infrazione nelle 4.450 aziende controllate, in diminuzione tra l'altro i contratti normali di lavoro. Andiamo avanti Andrea. Allora, nella Svizzera tedesca e nella Svizzera francese, soprattutto qui parliamo della Svizzera tedesca, 700.000 pensionati si sono visti recapitare una lettera firmata Adolf Foghi, Doris Leutert e Johann Schneider-Hammann, mentre sui quotidiani romandi è apparsa la stessa lettera firmata Joseph Dice e Pascal Cushpan. Come abbiamo capito, sono tutti ex consiglieri federali. Allora, voi immaginate questi pensionati che ricevono la lettera e dicono, è la Peppa, ma cosa vogliono questi qui da me, no? E uno la legge e dice, vi contattiamo oggi con serie preoccupazioni che aumentano l'ansia, no? E di che si tratta, insomma? Si tratta dell'iniziativa popolare per la tredicesima AVS. Se ciò, scrivono i consiglieri federali, gli ex consiglieri federali, che sembra allettante, è estremamente pericoloso. Poi, insomma, fanno tutto l'argomentario dei pericoli che comporterebbe questa iniziativa, cose di cui abbiamo già discusso, soprattutto la solidità delle casse dell'AVS. Quindi Fabrizio mi fa pensare questa iniziativa degli ex consiglieri federali che la paura fa un po' 90 su questo risultato. Ma è assolutamente così. Cioè, il fronte borghese ha estremamente paura di questa iniziativa perché questa iniziativa, una larghissima fetta della popolazione, vede concretamente quanto è indispensabile per qualcuno, anche vitale per fare una pensione che sia dignitosa, che si avvicini al rispetto del principio costituzionale per cui l'AVS dovrebbe bastare per vivere, cosa non vera. E fa veramente specie, ecco, che questa operazione di marketing un po' nostalgia dei ex consiglieri federali, fa veramente specie perché non si è mai visto prima, perché trovo comunque anche un pochettino usurpare quello che è stato il loro ruolo e approfittarne anche un pochettino. Sarebbe anche da capire dove hanno preso questi indirizzi perché è quanto era benvenuta questa lettera da parte di chi l'ha ricevuta. Potrebbe addirittura essere un boomerang perché io ho persone che mi scrivono per chiedermi consiglio di voto, eccetera, e se immagino una persona che mi ha scritto ieri che ha lavorato per una vita in cantiere e mi dice, ma mi spieghi un attimo cos'è la seconda di queste iniziative. Ecco, se riceve una lettera così penso che riprende in mano il piccore e va a cercarli, quei cinque. Sono un po' di dalla battuta. Watson, tra l'altro, ha sentito le ex consiglieri federali socialisti Rota Dreyfus e Michelin-Carmiret. Dreyfus critica i suoi ex colleghi per l'iniziativa, diciamo così, corporativa, non per l'opinione espressa quanto per l'iniziativa corporativa, mentre Michelin-Carmiret dice no, non c'è problema, io non vedo un problema da questo punto di vista. Tra l'altro citavo un episodio di una precedente iniziativa popolare dove dieci consiglieri federali avevano preso ugualmente una posizione pubblica. Marco, Cerentino, in breve. Brevissimo, ne abbiamo parlato ieri dicendo che si trattava di un personaggio con una carica pubblica a livello comunale. In effetti poi la Regione ha pubblicato il nome di questo sindaco di Cerentino, 62 anni, Silvano Leoni, che è finito sotto inchiesta per aver, come dire, prelevato illecitamente diverse centinaia di migliaia di franchi stando alla prima notizia data dall'RSI l'altro giorno dalle casse del gruppo di sostegno dell'Ambri Piotta. Allora, in corso accertamenti, ieri il Ministro Pubblico ha fatto una nota stampa dicendo sì, stiamo indagando anche su altre cose, perché questo, insomma, il sindaco, il Patrizio, è dentro in altre società, eccetera, eccetera, da notare, da citare, Filippo Lombardi sulla Regione, breve dichiarazione, presidente dell'Ambri, dice, ha fatto tante cose buone per il club, c'è dispiacere personale, ma c'è rammarico e delusione per una fiducia che non è stata onorata. Da notare che Leoni era anche sindaco, era, oltre che sindaco, sia autosospeso dalla carica, era anche nel consiglio di amministrazione della Bipiotta. Andiamo avanti. Vi leggo in breve un'altra notizia che riguarda i media, perché una commissione federale dei media di esperti nominata dal Consiglio federale ha preso posizione riguardo alla questione del canone, una posizione interessante perché questa commissione respinge entrambi i tagli proposti sul tavolo sull'abbassamento del canone, quindi sia i 300 franchi che i 200 franchi, ma chiede una rivoluzione nel mondo dei media, un cambiamento completo del sistema, in particolare suggerisce ai media pubblici di rinunciare totalmente alla pubblicità, come ad esempio avviene con la BBC, e di finanziare questi media con una tassa prelevata in base al reddito come l'imposta di culto oppure di finanziarla tramite l'IVA. Quindi diciamo no al taglio del canone ma al contempo occorre una rivoluzione. Andiamo Andrea Gringhelli sulla regione. Andrea Gringhelli parla dei Volta Marsina in elezioni comunali in vista, ci sono diversi spostamenti di candidati da un partito all'altro, ne abbiamo visti tantissimi di questi esempi negli ultimi anni e allora lui parla di candidati flipper che schizzano da un posto all'altro e cercano non tanto delle idee giuste quanto della convenienza personale. Insomma, chi mi prende io mi candido, no? Chi sta subendo fughe repentine soprattutto il partito liberale radicale e il polo di attrazione è il populismo di destra in cui l'Udc è la massima espressione. Una sorta di acchiappamosche l'Udc scrive Gringhelli che attrae irresistibilmente con argomenti appiccicosi chi è arrabbiato e cerca miglior sorte. Il politico flipper è un sottoprodotto della personalizzazione della politica. Due parole su questo velocemente? Allora, penso che il bello deve ancora venire il bello nel senso della questione e penso che alle prossime cantonali ne vedremo per l'appunto delle belle da questo punto di vista perché l'Udc è effettivamente in crescita e in queste situazioni è accaduto un po' ovunque negli ultimi anni anche se guardiamo nei paesi vicini a noi ci sono partiti che rischiano di avere più posti che persone pronte e quindi si salta sul carro del vincitore a ragione Gringhelli e questo è accentuato dal cinismo e dall'egoismo dei tempi attuali. Penso però anche che fondamentalmente guardate io penso che è una situazione un po' sempre accaduta solo che prima non c'erano questi cambiamenti di carri dei vincitori io penso anche per come ho conosciuto una serie di persone del partito liberale nei comuni ad esempio che erano lì perché è il partito più forte di liberale molte persone ho conosciuto ma veramente molto molto poco sarebbero state già Udc eppure si è andati lì perché ecco era il potere quindi il collante per molte persone non dico tutte io stimo tantissimi liberali che la pensano diversamente da me che portano comunque avanti bene nel comune che amministrano bene molte cose ci sono però delle persone che sono lì più per il potere o quel piccolo potere che pensano di vedere nella politica che non per gli ideali ecco questo è un po' sempre avvenuto oggi succede con la vittoria dell'Udc ancora di più e succede ancora di più per le dinamiche anche sociologiche che spiega Giringhelle chiudiamo il tumore di Reccano d'Inghilterra tumore alla vescica scoperto in modo incidentale allora Franco Cavalli sul sito dell'RSI spiega che in casi del genere è quasi la regola perché i tumori che non premono su terminazioni nervose non fanno male non lanciano campanelle d'allarme quindi insomma è possibile voglio dire cioè non è una bella notizia però qualche controllo in più bisognerebbe farlo della propria salute che ci siano i tumori in corso ma non ce ne si accorga se non facendo degli esami e quindi incidentalmente si viene a conoscenza tra l'altro gli hanno stimato cinque anni di vita per Reccano insomma ecco questa era l'ultima notizia grazie mille a Fabrizio Sirica per essere stato con noi e buon ultima giornata di Gran Consiglio sperando che finiate prima anche perché io ho la trasmissione in diretta stasera quindi spero che qualcuno arrivi dovremmo finire non si sa mai però dovremmo finire a metà pomeriggio fine pomeriggio grazie mille grazie buona giornata un piacere ciao buona giornata e Marco domani a domani ciao